Il mio lavoro è molto importante. Perché io solo faccio questa fiera in Italia, è molto importante in fotografia. Mia ci permette di avere un feedback con collezionisti che sono esclusivamente... Questa anno, la seconda fiera, a Mia, perché questa fiera è molto importante della fotografia contemporanea. Sono venuto in fiera sia come espositore che come utente finale. Perché mi piace guardare tutto ciò che succede intorno alla fotografia. È la nostra seconda volta, e siamo davvero entrati. È un spazio unico. 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 È un spazio unico.